Un'ondata di maltempo, breve ma intensa, dopo l'afa della settimana scorsa, si è abbattuta nella mattinata di domenica 16 luglio nel Brindisino. Forti piogge e temporali hanno avuto luogo sulla costa e nell'entroterra. Anche una spettacolare tromba marina, chiamata dagli esperti Watersput, si è formata sullo specchio di mare, compreso fra Costa Merlata, Torre Santa Sabina e Specchiolla, avvicinandosi molto alla costa. Tantissime le foto di curiosi e turisti che si trovavano in quel momento in spiaggia, tra cui il video del servizio segnalatoci dai meteorologi di Meteo One.